Insomma, il nostro legal è molto severo sulle immagini, quindi vuol dire che se noi proponiamo questa immagine un prima o dopo sulla nostra coni, ragazze, vuol dire che è effettivamente così. Birgit, io sono rimasta giocata. Assolutamente, vediamo anche quanto velocemente venga assorbita dalla pelle. E quindi la pelle risulta subito rinfrescata, rivitalizzata, nutrita. E non dovete neanche continuare ad applicarla, proprio perché abbiamo l'effetto dato dagli ingredienti attivi e puri. E abbiamo anche gli effetti dell'Opc, dell'olio d'uva pressato a freddo, che sono ingredienti che siamo noi stessi a produrre ed è per questo che possiamo utilizzare una concentrazione così alta. E guardate la differenza, guardate la differenza, dopo la prima applicazione la pelle risulta subito più levigata, più morbida, più idratata e più nutrita. E inoltre abbiamo anche un effetto tonificante, dunque lavoriamo anche sugli inestetismi. E parliamo anche di una versione super size, 1000 ml, che proponiamo soltanto una volta all'anno. Allora, scusami Birgit, perché si sta formando... Allora, scusami Birgit. Allora, scusami Birgit. Allora, scusami Birgit.